E' arrivata oggi in città Sonali, la studentessa indiana vincitrice della borsa di studio Cinemi-Cinema per Intercultura Italia ed è stata così ufficialmente accolta dal liceo scientifico Redi per questo secondo quadrimestre. La borsa di studio copre interamente il periodo di permanenza in Italia della studentessa delle Pernagall di Sheff che dona alle giovani appartenenti alle classi più svantaggiate della società indiana un'istruzione e dunque la possibilità di autodeterminare il proprio futuro. E' veramente tutto meraviglioso, non si aspettava tutto questo e quasi non si crede di essere qui. Questa sarà l'esperienza della sua vita. Si tratta infatti di Rainbow Project 2020 che adesso dopo 15 mesi è finalmente diventato realtà grazie alle due associazioni a 25 volontari, 110 studenti del liceo che hanno venduto quasi 700 kg di cioccolato insomma un vero e proprio successo di bontà e solidarietà. Ci siamo un po' distribuiti in tutta la città, in tutte le vallate grazie sempre ai volontari di Intercultura e abbiamo cercato di vendere, di raccogliere offerte per la cioccolata anche in altri contesti. Poi però è arrivata la pandemia e ci siamo bloccati tutti e pensavamo di non potercela fare più. E invece magicamente i ragazzi avevano venduto tutto e siamo arrivati a settembre, avevamo raccolto già abbastanza ma mancava l'ultima parte. Grazie ai volontari di Intercultura abbiamo spedito cioccolata in tutta Italia. e quindi siamo arrivati poi alla conclusione. L'Odissera è stata l'arrivo della ragazza perché doveva arrivare a settembre ma a causa della pandemia è stata rimandata di mese in mese. Grazie. Grazie. Grazie.